...di Alessandria qui su Eleven Sports per Serie CTV, siamo pronti a raccontarvi la sfida fra Alessandria e Pontedera. Dalla bandierina allora, il traversone in mezzo, il colpo di testa, la palla deviata e c'è il gol di Marconi! Il vantaggio dell'Alessandria al minuto numero 13 con Michele Marconi, ancora lui, ancora una volta, porta avanti i grigi. L'impallo favorevole, rimessa laterale, Nicco non si ferma mai, il cross in mezzo un po' come viene, c'è fallo secondo il direttore di gara ed è rigore, non ci ha pensato un attimo Colombo. Calcio di rigore per l'Alessandria, due rigori già siglati in questa stagione per Batman Marconi, c'è il fischio di Colombo, la rincorsa e il tiro e la lette! Il raddoppio dell'Alessandria con Michele Marconi, stavolta su rigore, sale a 4-7 nel giro di 120 secondi o poco più. Alza il pallone Seliac, lo stoppa di tacca addirittura Nico, si sprecano le finezze, il traversone in mezzo si stava coordinando per la rovesciata. Marconi ma fa buona guardia risaliti, disimpegna il pallone, la palla ancora buona per l'Alessandria. Gonzales, il 3-0 dell'Alessandria, l'errore di valutazione di Contini Baranowski. I giocatori dal 92 in poi, Branca attenzione, zona tiro per lui, Branca! Contini Baranowski stavolta pur con un'indecisione iniziale respinge, la palla ancora buona, c'è Nico, Nico, non c'è spazio per lui, Nico prova le magie. Marconi alza per Gazzi che non mette giù, di prima intenzione per Nico, Nico avanza col pallone, zona tiro ancora per lui, ci prova ancora Nico! E stavolta ha aggiustato la mira, palla fuori di poco. Sul punto di battuta c'è Gonzales, va lui a calciare, il tiro di Gonzales! Il 4-0 dell'Alessandria, appena rientrata in campo, due minuti dell'intervallo. Servire un compagno, non arriva però Posocco, palla interessantissima per Nico ora, Nico il contropiede dell'Alessandria, Nico prova a sventagliare per Marconi, che stoppa di testa, di petto Marconi! E gol! Questa è la squadra che l'anno scorso ha sfiorato la B, ora la riconosciamo, Marconi 5-0 al minuto numero 5 di questa ripresa, partita finita. Con l'Alessandria, il ruolino di marcia davvero incredibile, tutti appunto nel seriano di primo dopoguerra, la palla è per Nico, Nico, Nico! Il tiro e poi sulla respinta ancora Nico, non trova la... Sul punto di battuta, la conclusione che rimbalza prima di arrivare verso la porta di Buonaventura. Buonaventura. Pandolfi, mezzo per Pinzauti, Pinzauti si gira e c'è il gol della bandiera del Ponte d'Era, 5-1. La vostra squadra www.ilevesport.it, slash acquista, finisce la gara al Moccagatta, finisce per 5-1, l'Alessandria guadagna. Grazie a tutti.